È stato un lavoro lungo e faticoso di analisi, intanto di scoperta degli elementi di ricerca e di scoperta degli elementi di riscontro e di creazione dei collaboratori che ha portato poi al giudice distrettuale di fare una valutazione diversa rispetto a quella che era stata fatta al giudice distrettuale di Roma rispetto alla posizione di Bonavata Pasquale. Ci sono stati elementi di novità che abbiamo fornito analizzando e scavando ancora ulteriormente su attività del periodo, attività di indagini del periodo che ha consentito quindi di raggiungere questo ulteriore risultato che come detto è la naturale prosecuzione delle attività investigative che abbiamo portato a combimento a dicembre dello scorso anno. Il contesto che abbiamo delineato in conferenza stampa con questi arresti di oggi può essere concluso che è riferito all'intendimento del gruppo che controlla quel territorio, cioè di San Donofrio, di controllare anche quella porzione di territorio del Comune di Maierato che riguarda la zona industriale, quindi una zona di espansione economica che era di interesse della chimica organizzata che l'hanno conquistata nei termini in cui abbiamo illustrato in conferenza stampa, quindi attraverso i domicidi e poi i danneggiamenti che hanno fatto gli imprenditori.